Dal 1968 il TCS svolge dei test sui seggiolini per bambini per valutarne la sicurezza e l'uso. Grazie a questo impegno la qualità dei prodotti è costantemente migliorata. Data la grande scelta di seggiolini auto oggi in commercio, le prove sono diventate sempre più esaustive e attendibili. L'accento viene posto sulla resistenza all'impatto frontale e laterale nonché sulla facilità d'uso. Nella collisione frontale l'auto viaggia a 64 km orari. Qui il seggiolino deve impedire che il bambino venga scaramentato attraverso l'abitacolo, finendo contro sedili, cruscotto o parabrezza con un multiplo del suo peso corporeo. Nell'impatto laterale, testato a 50 km orari, i piccoli passeggeri subiscono spesso delle gravi lesioni alla testa. Il seggiolino deve evitare che il bambino urti con la testa contro il vetro o le strutture dure del veicolo. Dal 2011 si provvede anche a un esame delle sostanze nocive contenute nelle fodere, cinture e imbottiture, quali talati e metalli pesanti. Come orientarsi al momento di acquistare un nuovo seggiolino? Scegliete fra i modelli raccomandati dal TCS quello che risponde al meglio alle esigenze del vostro bambino. Fatevi assistere nei negozi specializzati e provate a montarlo nella vettura prima di decidere. Accertatevi che sia facile da installare e che il bambino vi possa essere allacciato con pochi semplici gesti. Purtroppo un seggiolino su due viene usato in modo improprio. Leggete attentamente le istruzioni d'uso. Solo un seggiolino adatto e utilizzato correttamente offre una protezione ottimale. Vi consigliamo volentieri al riguardo. Visitateci in uno dei nostri centri tecnici. Oppure ordinate la nostra guida Seggiolini Auto, ricca di suggerimenti utili, chiamandolo 0844 888 111 oppure tramite internet al sito seggiolini-auto.tcs.ch Grazie per la visione!